Secondo spazio informativo sul meteo da Arpa Lombardia, Davide Dallalibera. Cielo più sereno o poco nuvoloso con qualche nuvola che dai settori meridionali potrà interessare poi anche quelli occidentali, quindi le province di Pavia e di Milano ma ancora senza nessuna conseguenza. In serata ancora cielo per lo più sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Per quanto riguarda le temperature oggi le massime simile alla giornata di ieri quindi comprese tra gli 8 e 10 gradi sulle zone di pianura. Diamo lo sguardo anche alla giornata di domani che vedrà ancora tempo ben stabile, ben soleggiato, cielo ovunque sereno, temperature in lieve calo di 2-3 gradi in pianura per quanto riguarda i valori massimi. Nei valori minimi ancora estese gelate con temperature al di sotto dello zero al primo mattino. Con questo è tutto, auguro una buona giornata ad Arpa Lombardia.